oggi voglio farvi vedere la collezione primaverile di essence che si chiama blooming bright e questi sono alcuni dei prodotti io ho preso quasi tutto penso di aver lasciato soltanto il pennellino angolato per l'eyeliner ecco adesso penso di aver preso tutto quindi vi mostro i prodotti di questa collezione io li ho presi su douglas appena sono diventati disponibili perché non so questa volta su cosmetic for less sono in ritardo almeno io ho controllato ieri ancora questa collezione non c'era e nemmeno su macchie beauty nemmeno su pink panda l'ho trovata soltanto su douglas è strano questo ritardo però insomma e tra l'altro su douglas ci sono già dei prodotti sold out magari li riforniranno di nuovo però al momento non si trova tutto soprattutto i prodotti quelli più curiosi più diciamo più particolari più novità allora il trucco che mi vedete l'ho fatto ovviamente con questa collezione spero vi piaccia a me piace molto è molto sicuramente molto primaverile allegro colorato con questi toni piuttosto caldi allora prima cosa vabbè questa è una spugnetta però è carina perché sfumata le spugnette non le lascio mai indietro ho la fissa anche di queste che poi tra l'altro durano tantissimo quindi non è che ci sia necessità di cambiarle spesso però insomma quando capita l'occasione le prendo è proprio morbida molto carina poi questo è un prodotto appunto veramente curioso e anche innovativo secondo me perché non mi era capitato mai di vederlo prima faccio vedere di che si tratta praticamente questa è una pietra vulcanica che si passa sul viso e dice sia senza trucco ma anche con il trucco e opacizza quindi riesce ad assorbire l'oliosità della pelle e la rende opaca quindi magari anche durante il giorno se ci vediamo troppo lucide è una cosa veramente particolare non so come faccio ma ci riesce poi si può smontare per penso lavarla adesso non ho letto tutti i dettagli ma comunque insomma vedete si stacca quindi credo che poi si possa anche lavare poi lasciare asciugare e credo che duri dovrebbe durare tanto per una pietra non è che si consuma insomma una cosa particolare adesso l'ho anche sporcata con il fondotinta però insomma credo che appunto si possa lavare facilmente però la trovo una cosa veramente curiosa stavo guardando tutto c'è il nome della collezione infatti avevo letto in giro così un po dei commenti su prima ancora che arrivasse la collezione e leggevo appunto che tante erano proprio incuriosite da questo prodotto particolare poi abbiamo questo che è un blush illuminante è l'unico che c'è nella collezione allora come illuminante secondo me è un po difficile da utilizzare che anche l'arancione è molto arancione quindi secondo me almeno su una pelle chiara questo arancione non va proprio bene come illuminante però io dico che mescolati quindi presi tutte e due insieme il risultato quello che mi vedete sulle guance e quindi viene fuori questo rosa anche un pochino arancio ed è una bella ha una bella pigmentazione credete che sono belli pigmentati poi mescolo viene fuori comunque un colore insomma rosa arancio però molto carino poi la palette tutta di cartoncino a specchio e questi sono gli ombretti giro al contrario tanto eccoli qua carina e mi mette allegria non so guardare mi mette allegria e mi sento proprio in primavera visto che è iniziata tra l'altro la primavera e allora mi aspettavo che tipo questo tipo questo che fossero molto molto più pigmentati come di solito sono le palette di essence però visto che comunque stratificando un po l'ombretto quindi mettendone pian piano di più alla fine la scrivenza mi sembra buona mi sembra comunque buona ho ottenuto il risultato che volevo quindi direi che insomma va benissimo e questo qui pur essendo praticamente un panna si vede molto cioè bello anche lui io l'ho utilizzato su tutta la palpebra inizialmente per fare come una base e questi metallici sono veramente molto belli belli luminosi devo mettere lo smalto sono mesi che non metto uno smalto dopo le faccio vedere uno bellissimo comunque vedete che sono belli metallici sono belli quindi sia nell'angolo interno che si vede ho messo quel più chiaro e sulla proprio mobile ho messo questo questo qua questo è un po più ramato questo è più bronzo questi due invece che sono appunto segnalati con questa con questo rettangolo si possono utilizzare bagnati e diventano degli è praticamente degli eyeliner io ho provato prima adesso non si vede più metterà questa ho provato metterne un pochino però non volevo togliere la luminosità di questo ombretto quindi ho solo provato però sì è un'idea carina anche questa vediamo tra l'altro sono anche anche questi belli pigmentati guardate che roba sono pigmentati e quindi bagnati e presi con un pennellino per eyeliner quindi probabilmente quello della collezione l'ideale perché un pennellino piccolino bagnato preso preso presi questi ombretti si ottiene appunto una riga di eyeliner di questi due colori qui quindi mi è sembrato un'idea originale carina comunque la palettina mi piace mi piace molto poi oramai non dobbiamo stupirci della della qualità della degli ombretti di essence perché comunque è andata migliorando nel tempo sempre di più ci sono palette che veramente non hanno niente da invidiare a palette super famose di marchi famosi quindi sono stata ben contenta poi ci sono due bassami labbra colorate guardate che carino il packaging è troppo carino adesso questo l'ho messo forse al contrario sì così no quello ho sbagliato vabbè insomma mi devo far combaciare il fiore ecco qua il fiore era scritta le ho presi tutte e due mi aspettavo che fossero più pigmentati sulle labbra vi faccio vedere come sono cioè guardate che colore pensavo lasciassero più colore sulle labbra invece no sono proprio dei bassami labbra leggermente colorati hanno un profumo questo sembra sembra pesca profumo di pesca e lascia veramente poco colore però è carino perché comunque anche questo è qualcosa di secondo me proprio che rispecchia la primavera no quindi un colore vedo non vedo lucido non so proprio mi piace e poi questo qui che a vederlo fa un po paura se fosse stato così pigmentato in realtà anche lui insomma non lascia colore vi faccio vedere anche qua vedete appena appena più un leggero colore non vi ho fatto vedere l'altro sulla mano vedete proprio leggerissimo colore però sono molto carini proprio con quello che costano alla fine sono veramente carini da tenere dietro da mettere ogni volta che magari sentiamo che le labbra un pochino più secche perché effettivamente idratano benissimo le labbra benissimo mi si vedono neanche più tanto le pieghe quindi perfetto poi altre due cose che ho preso di su douglas ve le faccio vedere perché erano del mio acquisto ho preso il l'eyeliner questo qui di essence è da tempo che mi aveva incuriosito poi mi sembra bello cicciotto vediamo ero curiosissima di provarlo non facciamo pasticce vediamo qua bello mi sembra che scrive molto bene ed è anche fine sottile magari riuscirò chissà a metterlo ma mi incuriosiva tantissimo proprio per il fatto che fosse così cicciotto ed è piccolino me lo aspettavo più cicciotto e più magari più non so no vabbè ma più o meno tra l'altro appunto hanno ripreso un po' qui il disegno dei mascara quindi carino e poi ho preso questo smalto che è una roba volevo metterlo sulle unghie ma non ho avuto tempo ma lo metterò sicuramente lo faccio vedere qui sulla plastica ho provato ma secondo me non rende per niente ma è praticamente quasi duo chrome anche trio chrome adesso abbaglia perché c'è la plastica però è un po' verde un po' blu un po' viola bellissimo spero che sulle unghie renda di più perché sembra veramente molto bello non so se sarà della collezione quella dedicata a jurassic park si chiama hidden jungle effetto iridescente colore 02 misty shadow mi incuriosito l'ho messo dentro l'ordine poi vi faccio vedere due cose che non c'erano niente ho preso questo gloss troppo carino con il gattino non ho ancora aperto c'è anche cos'è il coniglietto e sono tre io ho preso il gattino ovviamente troppo carino poi mi hanno regalato e secondo me è un gran regalo un gran regalo questo profumino di Jean Paul Boutier quello a forma di omino direi che è decisamente un bel regalo direi che è decisamente un bel regalo se non l'ho neanche aperto devo dire non lo voglio buono non l'avevo ancora mai sentito devo dire che è buono da uomo sicuramente buono e ho apprezzato tantissimo il regalino poi c'erano altri campioncini i profumi e volevo invece un attimo dirvi una cosa su questo che è l'illuminante di Too Faced di quella collezione che vi ho mostrato nel video scorso mi è arrivato finalmente l'ho utilizzato adesso lo faccio vedere piccolino carino eccolo qua è rosa a vederlo così è rosa direi che è molto luminoso è questo io l'ho messo anche un po' sulla l'ho messo sulla sul blush e poi vabbè qui dove si mette di solito sembra che sulla pelle diventi un pochino quasi azzurrino vedete prende un po' di azzurrino più che di rosa però non mi sembra che stia male comunque è bello 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 pigmentato insomma bello luminoso carino non mi dispiace per niente carino c'è anche lo specchio pur essendo piccolino sì carino è un po' polveroso non so come dire un pochino va in giro però poi sul viso insomma una volta che lo si mette col pennello non è un problema ecco niente ci tenevo a dirvi giusto una cosina su questo su questo illuminante basta credo di avervi mostrato tutto spero che vi piace il trucco che ho fatto spero che vi sia piaciuto il video spero di avervi insomma di aver fatto una cosa utile per voi di avervi mostrato questa bella collezione in arrivo secondo me anche nei siti su cosmetic for less su maki beauty sicuramente arriveranno anche su pink panda qui sotto arriva un po' ritardo però poi arriva anche lì quindi non fatevela scappare se vi piace se vi piacciono i suoi colori così allegri e quindi niente aspetto i vostri commenti mi raccomando visto che ultimamente ricevo pochi commenti sotto i miei video anche se vabbè ovviamente nessuno di voi è obbligato a scrivermi l'importante è che mi guardiate e che i miei video vi piacciono però comunque a me fa piacere leggervi quindi se vi va insomma e mi lasciate un commento mi fate mi fate piacere quindi vi do appuntamento al prossimo video mi raccomando non mancatevi mando un bacio ciao